Sono gli studi di Temporadio al primo cittadino di Castelgofredo, di nuovo con noi il sindaco Alfredo Posenato, bentornato tra noi. Grazie, buona giornata a tutti. Allora, gli ascoltatori sono invitati a partecipare, io ricordo una delle tante coordinate, il numero per sms e messaggi whatsapp, che è il 338 17 19 105. Dunque, anche lei sindaco, come lo sto facendo a tutti i sindaci in questi giorni, perché noi comuni mortali, lo siete anche voi, però noi che non facciamo parte delle pubbliche amministrazioni non abbiamo idea, ma in questo periodo d'Italia ha tutti i consigli comunali riuniti per il consultivo. Sì, diciamo che era obbligo di legge approvare entro il 30 di aprile, noi l'abbiamo fatto la settimana scorsa, abbiamo quindi definitivamente approvato il progetto di bilancio consultivo. Purtroppo le modificazioni che sono state apportate al sistema di contabilità fanno sì che i bilanci consultivi vengano chiuse con degli apparenti avanzi estremamente robusti, parliamo nel caso nostro anche di avanzi in ordine del milione di euro, salvo che poi vi sono delle cifre che devono essere accantonate, soprattutto in virtù del fatto che ci sono i cosiddetti residui attivi che tradotti in italiano non sono nient'altro che i crediti che ancora il Comune deve incassare, che sono voci estremamente importanti. Che cosa significa? Significa che sulla carta il Comune ha disponibilità, ha chiuso il bilancio con un avanzo importantissimo. In realtà la maggior parte, la stragrande maggioranza di questo avanzo sono denari che il Comune non ha ancora incassato e buona parte di questi denari il Comune non li incassera mai, perché si tratta di crediti che in un contesto civilistico verrebbero definiti inesigibili in quanto dovuti da soggetti che o sono incapienti o sono irreperibili. Ne consegue che chi non ha pagato la tassa di iscrizione dei bambini, chi non ha pagato la mensa, in qualche caso molto più raro chi non ha pagato la casa di riposo e invece nel caso molto più diffuso chi non ha pagato le multe del codice della strada o chi non ha pagato la tassa sui rifiuti, per esempio, si ritrova ad avere questi debiti nei confronti della pubblica amministrazione, ma nella realtà buona parte di questi debiti risultano essere sostanzialmente non più pagabili. E quindi questa è una delle tantissime strutture delle deviazioni che ci sono all'interno della pubblica amministrazione, anziché poter fare un'azione talvolta di recupero un po' più decisa, un po' più immediata, siamo costretti a seguire delle regole che sono assai diverse rispetto a quelle del recupero credit delle aziende private e questo purtroppo rende spesso inefficace o non adeguatamente efficace l'intervento. Io l'ho già detto, per esempio, premesso che non c'è una regola comune, però non c'è dubbio che una parte significativa di questi debiti siano un capo a cittadini stranieri, talvolta questi cittadini sono soggetti che richiedono anche la cittadinanza italiana perché ne hanno maturato i diritti, io l'ho già detto, mi sono anche autodenunciato in prefettura che sebbene questo sia un diritto acquisito, quando ci sono dei cittadini che hanno fatto questo genere di richiesta, quindi la richiesta di avere cittadinanza italiana, ma hanno dei debiti nei confronti della pubblica amministrazione, io la cittadinanza non gliela conferisco, già che ne ho facoltà, fino a quando questi non mi saldano i debiti, perché credo che al di là di tutto cittadinanza significhi anche far parte di una comunità e far parte di una comunità significa far fronte alle proprie obbligazioni. I debiti sono una cosa che dovrebbe avere un valore sacrale da parte di tutti, purtroppo non c'è più questa visione così profondamente radicata, ma io sono invece profondamente convinto che debbano essere trattati con una grandissima attenzione, quindi questo era solo per dare uno spunto, un elemento di chiarezza su un tema che per la maggior parte dei cittadini è ignoto o comunque non di facile interpretazione. Mi viene in mente una cosa molto profonda che disse un comico genovese... Stia attento perché è un tema controverso... Con ben pochi capelli, quindi non è un altro, ecco. Dicevo che non è proprio, insomma, che Crozza qualche tempo fa, in risposta a un personaggio noto, ma magari ne parleremo un'altra volta, però appunto proprio riguardo l'importanza del pagare le tasse, cioè che le paghiamo tutti. Non dimentichiamoci che quando c'è il pilota che porta i propri conti correnti all'estero magari impedisce a un asilo di funzionare. Ma questo, vede, ecco. C'è proprio un riflesso diretto sulla nostra vita. Questo è un tema sul quale troppo spesso non ci si soffermi, non si riflette abbastanza, proprio perché evidentemente nulla si crea, nulla si distrugge e quindi quelle tasse che non vengono pagate da qualche d'uno fatalmente ricadono sull'intera comunità. E questa è la percezione, secondo me, distorta, che buona parte dei cittadini italiani ancora hanno. Ovvero il vedere la cosa comune come di nessuno, anziché vederla come di tutti e quindi anche propria. Se ci fosse la capacità di vedere le cose come di tutti, probabilmente sorgerebbe anche una diversa consapevolezza e una diversa attenzione appunto nei confronti di tutto ciò che è bene comune. D'altro canto non dimentichiamoci che una civiltà è tale, ed è definibile tale solo quando esistono delle regole che siano note, accettate e condivise. E naturalmente quando ci sono queste tre condizioni è doveroso da parte di tutti rispettarle. E se qualcuno non lo rispetta è doveroso da parte di chi esercita il potere per seguire questi comportamenti scorsi. Fermiamoci un attimino con il casalgo freddo al freddo posenato all'interno di Filo Diretto con gli Ascoltatori. Quindi si è parlato di questo bilancio appunto, giustamente un dato, glielo do come curiosità, c'è un comune del Garda, Riverasco, proprio del Garda, e proprio oggi ha pubblicato il fatto che riesce a riscuotere soltanto lo 0,18% delle multe erogate, per cui nel bilancio consuntivo risulta che ci sia una cifra, quando in realtà è nettamente, cioè da un milione rotte mila euro a poche centinaia, proprio si crolla in maniera drastica. No, no, ma è la verità, ed è un fenomeno largamente diffuso e condiviso un po' fra tutti gli enti pubblici. È chiaro che i comuni del Garda, godendo di entrate particolari dovute ad un afflusso turistico importante, normalmente hanno i conti un pochino più in ordine. D'altro canto è anche vero che hanno l'obbligo di mantenere il decoro, la pulizia, le infrastrutture in maniera ancora più puntuale, ancora più corretta, proprio perché l'attrattività del territorio diventa uno strumento fondamentale per poter avere del turismo. Però questi problemi legati appunto a multe non pagate, tassa sui rifiuti non pagata, eccetera, 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 sta diventando un fenomeno sempre più vasto, sempre più diffuso e sempre più profondo, da fronte del quale diventa indispensabile assumere delle iniziative che contengano il fenomeno stesso. Allora, le leggo alcuni messaggi, ci sono incentivi per i giovani agricoltori, dice uno, calzettari che danno lavoro ai cinesi, poi si lamentano dei laboratori solo a Castelgoffredo. Paghetasi c'è anche un messaggio di questo tipo appunto per quanto riguarda il fisco. Sindaco, Castelgoffredo non ha solo il bel centro con Piazza Mazzini, ma ci sono frazioni con problemi grossi di sporcizia ed erba alta, dice Michele. Poi anche a Castelgoffredo ci sono evasori fiscali, purtroppo, infatti è quello che aveva... Di non pagatori ce ne sono. L'evasione fiscale è un problema di carattere assolutamente trasversale, quindi non è immaginabile che sia solo un fenomeno concentrato in determinate aree o in determinati comuni, è un fenomeno che è assolutamente trasversale, quindi io naturalmente non sono in grado di identificare quali siano, se ci sia una profilazione precisa dell'evasore fiscale, questo non è mestier mio evidentemente, ci penserà la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate, a identificare e scovare chi eventualmente ha avuto atteggiamenti infedeli. Certo è un fenomeno grave, diffuso, profondo e oramai antico, perché il malcostume del non pagare le tasse è oramai cosa che si è diventata da molti anni. Allora, sarebbe troppo bello se tutti dovesse pagare le tasse, anche perché si pagherebbe molto di meno. Sarebbe troppo giusto, sarebbe troppo giusto. Diceva... Non dimentichiamoci, per esempio, ci sono alcuni paesi estremamente liberali come quello americano, gli Stati Uniti, per esempio, dove non sono riusciti a dimostrare che era un mafioso al Capone e allora però hanno scoperto che non aveva pagato mille dollari di tasse e l'hanno messo in galera. Sì, sì, naturalmente. È una cultura differente, nuovamente qua c'è la cultura diciamo ispirata ai principi weberiani e quindi i principi calvinisti che ha sicuramente un'attenzione assai diversa nei confronti del bene pubblico rispetto ai nostri che sono assolutamente consolidati ma diciamo facendo parte appunto di una cultura un po' differente c'è un concetto di individualismo assai più spiccato. Le chiedono come va la cooperativa della calza. Continuate a sostenerla perché avete dato esempio di civiltà all'Italia interna. Non posso negare che questo commento mi fa molto piacere. So bene che non è universalmente condiviso questo pensiero perché mi sono state anche riferite delle critiche abbastanza vivaci nei confronti di questa iniziativa tuttavia è stato un lavoro è il risultato di un lavoro estremamente lungo e faticoso di cui naturalmente mi assumo anche la responsabilità diciamo che sta andando avanti e devo dire che nelle ultime settimane anche grazie all'interessamento mi sento di poterlo dire apertamente insomma spero di non tradire la fiducia di chi fiducia ci ha dato l'interessamento di Calzedonia a questo progetto la cosa sta prendendo una piega un po' diversa quindi non c'è dubbio che l'interessamento del Ministero del Lavoro l'interessamento la disponibilità di Calzedonia a dare una mano su questo progetto sta dando un respiro differente quindi oggi la cooperativa sta funzionando a pieno ritmo si sta procedendo anche ad assumere qualche persona ci auguriamo che l'iniziativa possa davvero costituire un esempio se possibile e possa replicarsi più volte per cercare di creare posti di lavoro da un lato diventare uno strumento di contrasto alle attività illecite e anche mi permetto di dire essere uno strumento a sostegno dell'intero distretto della Calza che non va dimenticato proprio a causa del fatto che la maggior parte dei laboratori di finitura e cucitura hanno chiuso oggi c'è anche difficoltà a reperire quando si va in stagione soggetti che siano in grado poi di smarcare questa parte delle attività allora le chiedono se vuole rispondere perché dice sindaco Posenato cosa ne pensa dei fashion trend di CSC ma c'è un prossimo fashion trend se non sbaglio la settimana avventura ora non vorrei ricordare male ma mi pare martedì alle 17.30 presso l'auditorium del credito padano mi pare in passato insomma sono sempre stati effettuati con la collaborazione di una professionista esterna so che c'è stato un avvicendamento anche per ragioni economiche non va dimenticato che la banca che è stata per oltre 20 anni il principale finanziatore del centro servizi calza oggi in virtù delle modificazioni profonde che ha colpito la banca stessa ha certamente ridotto in maniera verticale la sua disponibilità a sostenere questa attività e quindi il centro servizi ha dovuto fare di necessità virtù trovando soluzioni alternative probabilmente anche un po' meno dispendiose direi che sono molto curioso di vederlo certo non va dimenticato che la calza purtroppo non sempre ha una così grande rilevanza nel mondo della moda e quindi le tendenze non so quanta parte del business in realtà coprano perché alla fine la parte principale delle attività di produzione delle calze riguarda se vogliamo prodotti relativamente semplici e colorazioni che in 3 o 4 colori riassumono il 90% del venduto quindi in realtà le tendenze moda sono comunque importanti per quella parte di mercato che è particolarmente sensibile o per quella parte di articoli di aziende che sono particolarmente vicini e afferenti a questo specifico segmento in generale non sono così importanti però io sono fiducioso che il centro servizi abbia fatto delle scelte corrette e quindi naturalmente attendo di poterle a mia volta vedere poter essere presente spero che possano risultare interessanti come spesso lo sono stati infatti c'era un messaggio che diceva nessuno parla più della BCC appunto dunque io so che lei vuole parlare di tanti eventi ci sono tanti messaggi complimenti sindaco bravo sei un mito c'è anche questo messaggio il solito parente IRPEF alle stelle le dicono anche hanno ragione purtroppo noi siamo stati costretti in virtù anche delle modificazioni sulle norme nazionali a portare l'addizionale IRPEF al massimo consentito dalla legge ma non avevamo alternative altrimenti non avremmo chiuso il bilancio quindi io credo che tutti gli amministratori se ne avessero possibilità sarebbero lieti di abbassare le tasse e non di alzarle purtroppo talvolta non ci sono margini di manovra non si può fare diversamente spendere i 500 mila euro per un marciapiede è uno spreco totale peggio del buco d'acqua intanto beviamo dalle fontane senza rubinetti dice Mark io l'ho letto il messaggio ma io non so se si riferisce alle attività di riqualificazione della via Brescia se è quello a cui si riferisce non mi sento di essere tanto d'accordo perché lì non è stato fatto un marciapiede lì è stata rifatta l'intera strada anche con una parte di sottoservizi con tutta l'illuminazione con la messa in sicurezza e la creazione di una pista ciclabile quindi direi che è un po' più complesso poi allora i politici tedeschi sono panze e i nostri sono panze saluto Stefano che ha commentato così c'è anche chi dice a vivere il 25 aprile a festeggiare sempre e ricordare la sconfitta della dittatura nazifascista tagliare l'erba le dicono anche come procede il palazzetto le chiedono anche il palazzetto ci sono in corso una serie di verifiche anche di carattere sismico non appena queste saranno ultimate i lavori dovrebbero iniziare siamo fiduciosi che per fine anno possa essere definitivamente restituito c'è il sindaco posenato salve che se il goffreddo avrebbe bisogno di collegamenti rapidi che in parte abbiamo già ma serve ottimizzare il traffico e poi c'è una proposta che non è arrivata perché ad esempio si potrebbe ma non è arrivata la seconda parte del messaggio quindi chiedo scusa non c'è appunto questa proposta sul traffico tengo a precisare che c'è in progetto appunto la riqualificazione della strada per acqua fredda che dovrebbe deviare il traffico pesante e questo consentirà di alleggerire in via definitiva il traffico pesante appunto all'interno del centro storico poi qua io saluto Luca ha fatto la domanda al suo ospite che veniva prima di lei dice vorrei chiedere anche a lei sparare ma solo di notte per svegliare i vicini punto di domanda che ne pensa ma ho sentito di questa proposta che mi sembra come spesso accade fatta in fretta e male mentre il problema è antico e grave mi pare che veramente si potesse fare di molto meglio non ha senso fare distinzioni fra giorno e notte perché il vero la notte forse può accendere in qualcuno un maggior senso di incertezza però non è immaginabile che chi per esempio dorme di giorno e sta sveglio di notte debba essere trattato in maniera diversa se subisce un furto di giorno quindi mi pare che sia fatta come spesso accade piuttosto male perché c'era una velata ironia mica tanto velata insomma le posso chiedere sindaco ci sono tantissimi che le vuole ricordare mi sa che dovrei metterci un quarto d'ora ma cercherò di essere molto sintetico allora Castelgofredo sta per entrare nella stagione degli eventi in modo particolare dal prossimo fine settimana ce ne saranno veramente per tutti i gusti perché avremo la terza edizione di aroma di flora e della bora il 13 e il 14 di maggio appunto è una fiera dove si parla di erbe aromatiche ma non solo di tutto quel che ci va attorno pertanto è un'attività che ha una manifestazione che ha già riscosso grande successo e spero possa essere ben frequentante anche quest'anno ci sarà un'altra manifestazione che è un po' più privata se vogliamo si chiama EnergiaD che riguarda le scuole inizia dalle 8.30 del 12 e termina alle 14.30 del 14 ed è praticamente una sorta di maratona ciclistica su delle ciclette dove su queste ciclette si produce energia è una sorta di evento competitivo per cui gli istituti scolastici che si classificheranno meglio riceveranno poi anche delle contribuzioni che potranno essere utilizzate per migliorare la struttura stessa della scuola c'è poi evento molto importante sotto il profilo sportivo per Castelio Fredo le finali nazionali dei campionati di tennis tavolo che ci saranno appunto nella nostra struttura di tennis tavolo nel palatenist tavolo venerdì 12 di maggio alle 8 contro il Carrara quindi ci auguriamo di poterci confermare come Castelio Fredo campioni d'Italia come è avvenuto lo scorso anno sia maschili che femminili e poi avremo a breve il bando aree verdi bene comune che coinvolge i parchi della palanca dei musicisti degli alpini a breve licenzierà un calendario di eventi che appunto ravviveranno queste tre aree e sono convinto che questo susciterà un poco successo allora c'è ancora un po' di ironia legata al provvedimento sulle armi l'uso delle armi di notte speriamo che i signori delinquenti non liberizzino gli orari ma io non credo che i delinquenti abbiano un orario non lavorano su turni lavorano sempre lavorano tutte le volte che le circostanze glielo consentono noi a Castelio Fredo siamo particolarmente fortunati che abbiamo delle forze dell'ordine che sono straordinariamente attente e profonde conoscitrici del territorio però è chiaro che le attività dei ladri non sono preventivabili bisogna essere sempre in grado di poterle affrontare e di poterle contrastare esatto complimenti arrivano alla Proloco anche tra l'altro complimenti condivisi e poi c'è una bella ha un paio di venti minuti insomma perché dice Posenato lei cosa ne pensa dei sindacati e dei casi appunto del loro comportamento nei casi come quello di Alitalia ma io non nego che nei confronti dei sindacati sono stato in passato straordinariamente duro e non nego anche che invece in tempi più recenti in virtù anche di questo progetto cooperativa della Calza ho avuto modo di collaborare con loro in modo particolare con alcuni di loro in maniera veramente fruttuosa nel caso di Alitalia mi pare che si sia commesso un nuovo grave errore che si somma ai molti errori commessi da molti governi precedenti dove nel tentativo di continuare a voler mantenere una situazione che evidentemente non era mantenibile si è continuati ad attingere per miliardi di euro nelle tasche degli italiani mi sia permesso dire che se a noi poveri disgraziati del distretto della Calza fosse stato dato un decimo di quanto è stato garantito dall'Italia avremmo probabilmente le aziende più belle del mondo avremmo delle opportunità non avremmo perso con le delocalizzazioni tante aziende non avremmo permesso alle attività illegali di installarsi e di avere successo insomma avremmo potuto sovvertire decisamente il pronostico quindi non riesco certamente ad essere favorevole a quanto è stato fatto con l'Italia mi pare peraltro che anche i sindacati che avevano a suo tempo fortemente appoggiato questa sorta di referendum interno abbiano successivamente fatto una retromarcia disastrosa però ahimè tardiva il danno è fatto quel che è lo vediamo tutti quanti quindi siamo in chiusura allora appuntamenti già dal prossimo fine settimana detto sì assolutamente il prossimo fine settimana diciamo sarà densissimo di eventi ci auguriamo che Castelgolfredo possa diventare davvero punto di ritrovo per l'Alto Mantovano nella certezza appunto che questo ventaglio di opportunità darà modo a tutti quanti di soddisfare le proprie aspettative benissimo grazie al primo cittadino Alfredo Posenardi molte grazie a voi della specialità grazie a voi grazie a voi